Sebbene l'obiettivo primario degli infortuni zero sia ancora lontano dall'essere raggiunto, i settori della siderurgia e della metallurgia sono però sulla strada buona. Lo testimoniano anche il fatto che gli indici dati dalla World Steel Association, in particolare il Lost Time Injury Frequency Rate, che misura il tempo in cui gli impianti sono rimasti fermi per gli infortuni, si è calato dell'82% nell'arco di qualche anno, dal 2006, da quando sono misurate questi dati, e ha raggiunto il livello dello 0,83 di indice. Un numero importante se si considera che lavorando su questi impianti si ha a che fare con metalli a temperature elevatissime e macchinari che non permettono la minima distrazione nel momento in cui sono in funzione. Questi dati inoltre testimoniano anche il sensibile innalzamento da parte delle aziende della volontà di sensibilizzare i propri addetti sulla sicurezza sul lavoro. Lo testimonia proprio anche quello che è è andato in scena il 21 ottobre, il giorno dello Steel Safety Day, nella Cairi Arvedi di Cremona, che ha destinato una serie di iniziative proprio a sensibilizzare i propri lavoratori sui possibili cause di incidenti e di infortunio che possono capitare nel corso dell'attività quotidiana. Abbiamo parlato dei dati internazionali ma anche quelli italiani sono piuttosto buoni sebbene come si è già detto l'obiettivo sia arrivare allo zero assoluto. I dati inal aggiornati al 31 agosto mostrano infatti come l'indice degli infortuni per il comparto metallurgico, non si può scorporare ulteriormente il dato, si è sceso in otto mesi confronto negli otto mesi del 2019 del 33% per quanto riguarda gli infortuni complessivi e del 10,34% per quanto riguarda invece gli infortuni mortali, numeri importanti e che in valori assoluti rappresentano circa 10.000 casi o poco più per quanto riguarda gli incidenti e soli 26 casi per quanto riguarda gli incidenti mortali. Inoltre i valori sono praticamente poco più del 4% del valore complessivo di tutti gli incidenti sia normali che mortali che sono accaduti nell'intero mondo del lavoro italiano, quindi numeri tutto sommato incoraggianti. Resta ancora molto lavoro da fare ma come detto all'inizio sicuramente siamo sulla strada buona e giornate come lo Steel Safety Day possono aiutare a fare sempre meglio. Grazie a tutti.